Agosto rilancia Napoli nella lista dei luoghi in cui parte la ripresa economica, in particolare il weekend di Ferragosto e i giorni ad esso correlati hanno fatto riversare sul capoluogo campano frotte di turisti che hanno sicuramente segnato una svolta nell'ambito delle visite alla città e ai suoi musei e ai suoi beni culturali. Complici i saldi e una rinnovata consapevolezza delle aperture in periodo estivo, turisti soprattutto stranieri hanno speso nei negozi di via Toledo e Chiaia con una spesa mirata per determinati tipi di esercizi e prodotti, i più gettonati quelli artigianali tipici dell'arte manifatturiera locale. Napoli, primo scalo croceristico del Mediterraneo, non è più quindi mera tappa di approdo per Capri e Pompei, ma luogo in cui passare i propri giorni vacanzieri per la gioia di turisti, emigranti di ritorno e cittadinanza. Sì, sì, si spende, vedo che comunque Napoli è sempre in miglioramento, per me è sempre la mia città, me la porto sempre dentro e ogni agosto di ogni anno sono qui. è piena di turisti, poi come diceva lui prima ogni anno è sempre molto più calorosa, ecco, poi vedo che gente dicono la crisi così è, però è piena di turisti, ecco, sempre molto di più, anche se adesso è da poco passato Ferragosto, ecco. Sono contento di aver visto tante persone, tanta gente, soprattutto pulita, anche il servizio d'ordine è presente, quindi sono contento che i turisti ritornino da Napoli, adesso sta a noi napoletani, non farli scappare. Tutto molto bello, sì, assolutamente. E da dove viene? Reggio Emilia. E che ne pensa della città? È straordinaria per me, bellissima la città, bellissimo tutto, bellissima la gente. E la pizza. E la pizza. Sì, soprattutto la pizza. Bellissima, molto bella, è sempre affascinante. Davvero bella, molto, bellissima.